Ciao amici, bentornati su Giugissima e benvenuti alla seconda parte del video sulle 12 cose che amo della Danimarca in cui condivido la mia esperienza positiva in questo paese. Se non l'avete ancora guardato, andate a guardare il video che contiene la prima parte di questa miniserie in cui mi soffermo sui primi sei elementi positivi della Danimarca. Oggi invece partiremo dal numero 7. Al numero 7 abbiamo le biciclette. La cultura del ciclismo è enorme, sviluppatissima in Danimarca, ci sono piste ciclabili ovunque davvero e le persone, me compresa, si spostano in bicicletta, quindi normalmente non utilizzano la macchina, magari alcuni hanno anche la macchina, ma principalmente si spostano in bicicletta. E ci sono anche delle biciclette chiamate Christiania Bikes che hanno un vagoncino davanti in cui ci possono stare per esempio i bambini o si può mettere la spesa in modo da poter portare un po' più di roba rispetto a quella che si può portare su una normale bicicletta. Io abito a 10 km dal mio ufficio e vado sempre in ufficio in bicicletta e quindi non è raro che in una settimana normale io faccia più di 150 km in bici soltanto per andare e tornare dal lavoro e per fare commissioni, uscire la sera, uscire con gli amici. Quindi mi muovo davvero tanto in bicicletta e questa è una cosa che mi piace perché mi permette di fare un po' di movimento, un po' di sport, sfruttando gli spostamenti da un posto all'altro. Inoltre le bici si possono portare sui treni, sulla metro e anche su alcuni autobus fuori da Copenhagen. In questo modo non si è obbligati a fare andate e ritorno in bicicletta. Si può per esempio andare in bici e poi tornare mettendo la bicicletta sul treno e questo credo sia molto comodo. Inoltre proprio perché si esce in bici e il tempo non è sempre clemente è più accettabile uscire con vestiti più sportivi e magari avere anche un vestitino d'estate ma avere le scarpe da ginnastica. C'è un po' meno formalità in questo senso proprio perché ci sono esigenze diverse rispetto a quelle che ha chi esce in macchina. Un'altra cosa è il fatto di avere spesso uno zainetto invece della solita borsetta perché in bicicletta è più comodo. Al numero 8 abbiamo l'estate. Premettendo che a me l'estate piace pressoché dappertutto in Danimarca l'apprezzo in modo particolare. Prima di tutto perché ci sono pochissime ore di buio il sole sorge prestissimo e tramonta molto tardi. Nel periodo in cui le giornate sono più lunghe ci sono soltanto 4 ore di buio e quindi si possono fare veramente tante cose tutto il giorno e ci si sveglia al mattino presto molto riposati è molto più facile alzarsi presto. Inoltre raramente le temperature superano i 30 gradi e quando si è fortunati si ha quella giusta temperatura tra i 25 e i 30 gradi in cui non fa troppo caldo c'è sempre un po' di vento qua a Copenaghen perché siamo vicini al mare e quindi si sta veramente bene non si patisce troppo l'estate come magari si fa in altri luoghi. Il rovescio della medaglia è che l'inverno è molto buio, freddo e un pochino deprimente questo è uno dei difetti che io trovo in Danimarca magari ve ne parlerò in un altro video e comunque devo precisare che anche d'estate il tempo non è sempre perfetto per esempio oggi piove a dirotto sembra una giornata di novembre quindi quello del clima è un argomento un po' scivoloso in Danimarca ma in tutto ciò io amo veramente l'estate danese quando il tempo, il meteo ristecchia quello estivo. Al numero 9 abbiamo le attività all'aria aperta i danesi amano passare tempo all'aria aperta nella natura perché fa bene al corpo e fa bene all'anima proprio perché in Danimarca come ho detto prima il meteo può cambiare da un momento all'altro i danesi si godono tantissimo le giornate di bel tempo vanno a fare trekking vanno in canoa, in kayak vanno in bicicletta fanno tantissime cose e quindi sfruttano veramente le belle giornate questa è una cosa che mi ha fatto apprezzare molto di più il bel tempo e mi ha invogliata a fare più attività all'aria aperta però devo anche dire che i danesi stanno molto all'aria aperta anche quando il tempo è brutto molte persone vanno a correre si va comunque in bici con la mantella anche quando piove e comunque i danesi in generale passano molto più tempo all'aria aperta cosa che è strana perché il clima come ho detto prima non è così clemente e questo è quello di stare nella natura stare all'aria aperta è un valore che ho sempre avuto nella mia vita ma che ho rafforzato vivendo in Danimarca certo non sempre stare fuori con il tempo brutto è confortevole anzi quasi mai però c'è un detto danese che riassume bene lo spirito di questo popolo da iggeno doli tvea da kun doli poklerni cioè non esiste tempo brutto ma solo vestiti inadeguati quindi pantaloni impermeabili stivali mantella e noi fuori all'aria aperta ci andiamo lo stesso al numero 10 abbiamo il natale e le tradizioni natalizie l'atmosfera natalizia a copenhagen e nel resto della Danimarca è molto coinvolgente calda e già a novembre si inizia a pensare alle decorazioni natalizie ci sono sempre tantissimi eventi con tutti i gruppi sociali nella vita di una persona ad esempio al lavoro sport con gli amici ci sono i cosiddetti julefogost cioè la cena di natale questa ce l'abbiamo anche in Italia in Danimarca è un pochino più spinta come cosa nel senso che si fa molta più festa si beve molto di più ci sono molti giochi e tradizioni ed è proprio a queste tradizioni che mi sono un po' legata l'anno scorso e per tutto il mese di dicembre ho fatto una serie su youtube ogni giorno una serie di vlogmas quindi ogni giorno ho pubblicato video con attività natalizie e tradizioni natalizie danesi e quindi se volete saperne di più su questo aspetto andate a guardare i vlogmas anche se siamo un pochino fuori stagione adesso ma magari vi possono servire per prendere ispirazione per il prossimo Natale che è soltanto fra sei mesi al numero 11 abbiamo Hygge Hygge è una parola danese che indica un concetto specifico della cultura danese e si riferisce allo star bene insieme all'apprezzare il momento presente con un senso di calore di amore per la vita è proprio lo star bene non c'è una traduzione in italiano e non c'è una traduzione in inglese è un concetto molto scandinavo e in particolare molto danese posso provare comunque a rendere l'idea prima di tutto si tratta di un sentimento una sensazione che unisce le persone che si trovano insieme in una determinata circostanza ad esempio le persone persone a cena oppure quando un gruppo di amici beve una cioccolata calda o un caffè oppure ci si ritrova in un bar si dice die mal hygget die war mal hygget era molto hygget c'era molto hygge ed è proprio questa sensazione di stare bene insieme agli altri di avere un legame con le altre persone nel momento presente al contrario se si ad esempio ad una cena in cui succede qualche dramma succede qualcosa qualcuno si si arrabbia con qualcun altro c'è qualche litigio si dice die mal hygget non hygget quindi molto non piacevole da un punto di vista sociale delle relazioni sociali ma si può avere hygge anche da soli a casa quando per esempio ci si sofferma a leggere un libro magari con una candela accesa con una tazza di tè e si sta bene anche da soli si apprezza il momento presente il cosiness si dice in inglese quindi quello che c'è di bello intorno a sé e si vive bene anche l'estetica delle case danesi è molto ispirata a hygge sono si cerca di creare degli angoli in cui si può stare bene ci si può sentire hygge quindi ad esempio si mettono cuscini coperte candele luce soffusa un'atmosfera insomma coinvolgente che faccia sentire le persone a casa e non solo le persone che vivono in una certa casa ma anche gli ospiti le persone che arrivano si possono sedere tranquillamente e apprezzare l'atmosfera e goderne quello del hygge è un concetto danese che mi piace molto che credo esprima molto bene una parte un po' più profonda della mentalità danese l'attenzione alla salute mentale di cui abbiamo parlato nel video della volta scorsa e anche la solidarietà sociale l'importanza di stare bene insieme e credo sia anche legato un po' al fatto che come abbiamo detto prima il tempo in Danimarca non è sempre bello quindi non sempre è più utilità essere fuori all'aria aperta e quindi si cerca di curare un po' di più l'atmosfera in casa e nei luoghi al chiuso se vi interessa saperne di più del hygge ve ne parlerò in altri video posso anche cercare di condividere la mia esperienza con voi di come rendo la mia vita più hygge al numero 12 abbiamo i valori della società danese apprezzo molto la società danese per i valori condivisi tra le persone uno di questi forse più importante che ho già menzionato in relazione alla cultura del lavoro è quello della fiducia tra le persone tutti hanno tendenzialmente fiducia negli altri persone che conoscono e sconosciuti e tutti pensano che gli altri si comporteranno bene verso di loro hanno una fiducia spontanea e automatica evidentemente ci sono anche delle eccezioni ma comunque i danesi tendono a fidarsi degli altri e non ad essere diffidenti e proprio per questo tutti si comportano tendenzialmente bene nei confronti degli altri e come abbiamo detto l'altra volta il motivo per cui c'è così tanta flessibilità sul lavoro per cui si può lavorare da casa non si devono chiedere permessi non ci sono strutture rigide proprio perché tutti si fidano degli altri ciascuna persona si fida dei propri colleghi e quindi non viola le regole perché sa che nessun altro lo farà e ci sono così tanti benefici sociali il welfare state è così ampio proprio perché le persone non se ne approfittano ciascuna persona sa che gli altri non se ne approfitteranno e quindi non è invogliata ad approfittarsene mentre in altri stati ci si sente quasi obbligati ad approfittarsi dei benefici del welfare state perché si sa che la maggior parte delle altre persone tenteranno di farlo e quindi se non si cerca di guadagnare di più dal welfare state di fatto si avrà una perdita in questo senso c'è grande fiducia tra cittadini e stato lo stato garantisce l'eguaglianza dei cittadini sia in senso formale sia in senso sostanziale e cerca di non fare torto a nessuno un altro valore che apprezzo molto è quello della tolleranza e dell'apertura nei confronti delle diversità per quanto riguarda diversi orientamenti sessuali e l'identità sessuale c'è molta tolleranza e molta apertura anche proprio nella società non ci sono episodi di discriminazione almeno per quanto ne so io non ho avuto esperienza diretta ma ho molti amici conoscenti omosessuali e confermano di vivere una vita tranquilla senza percepire le discriminazioni che magari si possono trovare spiacevolmente in altri paesi lo stesso vale per le diversità culturali che sono percepite e apprezzate anche come fonte di ricchezza questa è la mia esperienza da italiana arrivata a Copenaghen non mi sono quasi mai sentita discriminata l'unica cosa che posso dire è che magari sullo stipendio c'è un pochino di differenza i danesi vengono pagati un po' di più rispetto agli stranieri soprattutto all'inizio quando si cerca un nuovo lavoro poi con il tempo in realtà vi è equiparazione tra gli stipendi però all'inizio gli stipendi offerti agli stranieri sono un pochino più bassi i danesi viaggiano molto e nutrono molto interesse per le culture diverse e per i paesi diversi quindi porgono spesso domande agli stranieri che arrivano in Danimarca e posso dirvi che la cultura italiana è tra le più apprezzate in Danimarca ci sono moltissime persone innamorate dell'Italia moltissime persone che hanno studiato italiano che hanno comunque qualche legame con l'Italia per esempio una casa in Italia oppure il fatto che viaggiano magari tutti gli anni in Italia quindi la cultura italiana è molto apprezzata ed essere italiani a Copenaghen è piacevole c'è anche una grossa comunità italiana e poi contrariamente a quello che si pensa i danesi in realtà sono molto socievoli non credo che sia si tratti di un popolo chiuso parlano tutti inglese quindi è anche facile comunicare se non si parla danese si può vivere benissimo a Copenaghen senza parlare danese l'unica cosa è che se si vogliono creare veramente amicizie con danesi la mia esperienza è che è utile parlare il danese io sono molto in favore dell'apprendimento della lingua locale del luogo in cui si vive e per questo ho imparato il danese in generale comunque in danimarca c'è molta apertura nei confronti delle idee nuove anche per quanto riguarda l'ambiente lavorativo oppure la vita personale è un paese con ampie vedute queste sono le 6 più 6 ragioni per cui mi piace vivere in danimarca questo non significa che la danimarca sia il paese perfetto il paese perfetto non esiste e ci sono lati positivi e negativi per quanto riguarda ciascun paese e tutto dipende anche dai gusti personali e con questo video io non voglio togliere nulla l'italia come sapete io amo il mio paese lo amo profondamente apprezzo moltissime cose che purtroppo non si trovano in danimarca e che magari la cui assenza in danimarca costituisce anche secondo me un difetto di questo paese e se vi interessa in altri video vi parlerò anche dei difetti della vita in danimarca perché ce ne sono e risponderò alle vostre domande per quanto riguarda la danimarca e la mia esperienza in questo paese seguitemi su instagram per vedere com'è la mia vita quotidiana a copenhagen cosa faccio in quali posti mi trovo e com'è copenhagen in generale date uno sguardo al mio blog vi lascio il link nel description box iscrivetevi al canale mettete mi piace lasciatemi un commento io vi abbraccio forte e ci vediamo nel prossimo video ciao ciao